Amici, oggi recensione un po' difficile, perché l'avete anche capito dal titolo, no? Stiamo parlando di un processore che ho provato negli ultimi giorni e che è un po' difficile da recensire sotto determinati aspetti, perché ci sono diverse cose da considerare lato gaming, insomma. Non è stato semplice arrivare a delle conclusioni. E stiamo parlando del 13400F. Allora, prima di entrare nel vivo della recensione, nel vivo dei test e delle varie cose che ho fatto, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, così mi date una grossa mano. Siete tanti che guardate i video e se solo tutti vi iscriveste, ok, al mio canale, arriveremo a dei numeri molto alti in breve tempo. Quindi datemi una mano, lasciate un like, condividete e vi ricordo che giù in descrizione ci sono i link per seguirmi sugli altri social, come Facebook, Telegram, dove c'è il nostro canale offerte, oppure anche Instagram, con il mio profilo. In una prima battuta, quando sono usciti questi processori, diciamo, di fascia minore, il 13400F non se l'è filato quasi nessuno. Cioè non c'è stata una grossa, diciamo, presenza di recensioni sul web. Anche i più grandi recensori, canali YouTube americani, lo hanno poi con calma portato in un secondo momento. Quindi era un po' strana questa cosa, poi alla fine ho capito anche il perché nel momento in cui ho visto un po' i test e mi sono accorto, diciamo, di come va in determinate situazioni, specialmente in gaming. Ciò nonostante, io l'ho preso, me lo sono fatto mandare, ci ho voluto fare un video, perché voi sapete che questa fascia di processori sono molto interessanti. Io li reputo molto interessanti, perché sono poi quei processori che vengono venduti maggiormente, perché finiscono sulle build, tra virgolette, meno costose e quindi, diciamo, su delle fasce che vanno intorno alle 1000-1100 euro. Il 13400F, come sapete, è un processore Raptor Lake, quindi è un nuovo processore, dove Intel, ovviamente, ha portato numerose migliorie. E la prima miglioria che noi conosciamo, abbiamo imparato a conoscere già dai video precedenti, è che su questi processori sono stati inseriti gli E-Core, che prima, invece, non c'erano. Quindi gli E-Core sono stati aumentati su quei processori 12000 che già li avevano e sono stati inseriti su dei nuovi processori, come il 13400F, che nella sua precedente versione era un semplice 6-Core, quindi 6 Performance Core, in questo caso, invece, diventa un 6-Core, 4 E-Core, quindi diventa un 10-Core. L'altra cosa positiva degli Intel Raptor Lake è che la cache L2 sui singoli P-Core e sui cluster di E-Core è stata aumentata, almeno sui modelli con la cappa e sui modelli di fascia più elevata, perché, in realtà, sui modelli minori, come ad esempio questo 13400F, la memoria L2 sia aumentata, ma non perché sia stata aumentata sul singolo P-Core, ma perché, semplicemente, avendo il cluster con 4 E-Core, si trova 2 MB di cache L2 in più. Mentre, invece, ad esempio, sul 13600K, noi passiamo da 1,25 a 2 MB di cache L2 per ogni P-Core e questo, ovviamente, come potete ben capire, fa sì che, in realtà, il 13400F da un punto di vista architetturale, quindi parliamo semplicemente di architettura, sia, in effetti, un 13000, ma non abbia, diciamo, un grosso vantaggio come ce l'hanno i processori di fascia superiore, 13700K e 13900K. Le frequenze, e anche in questo caso, il 13400F non ha tutte queste frequenze più elevate rispetto al 12400, perché, mentre il 12400, se vi ricordate, arrivava a toccare i 4 GHz all-core e toccava anche i 4,4 GHz sul single-core, testando il 13400F, vediamo che, in realtà, la differenza è di appena 100 MHz, perché il multi-core raggiunge i 4,1, mentre in single-core riesce a toccare anche i 4,6. Quindi, abbiamo una piccola differenza, ma non è tutta sta differenza, se pensate, ad esempio, che il 13600K arriva a toccare quasi 5,1 GHz su tutti i corni carichi multi-core. Andando a vedere, poi, i primi risultati in Ginebench, vediamo che, mentre in multi-core, effettivamente, il 13400 riesce a toccare punteggi abbastanza elevati, anche di 16.000 punti, il 12400F si fermava, invece, intorno ai 12.000 punti. Questo è normalissimo, perché, avendo 4 core in più, ragazzi, nei lavori come Cinebench, io l'ho testato anche in altri software che sono V-Ray, software di bench, i punteggi sintetici sono più alti e anche i risultati in quelli che sono i principali applicativi multi-core sono effettivamente a vantaggio del 13400F. Questo, però, non significa che il processore poi è così tanto più veloce, perché già se noi andiamo a vedere le performance in single-core, rispetto a un 12400F, il 13000 in realtà riesce ad arrivare ad un 1760 punti in Cinebench e guadagna appena una cinquantina di punti rispetto al 12400F, che in realtà sono una cinquantina di punti abbastanza risicati, che se consideriamo anche il fatto che in realtà in single-core la frequenza è un po' più spinta, quindi 200 MHz in più, è semplice arrivare alla conclusione, cioè i due processori dal punto di vista del single-core si equivalgono molto e non hanno tutta sta differenza. La grossa differenza in multi-core è dovuta, come vi dicevo, al fatto che abbiamo un numero maggiore di processori attivi per questo tipo di carichi. Ora, questo potrebbe sembrarvi un buon vantaggio, perché parecchi di voi potrebbero pensare e dire, vabbè, il 12400F era un buon processore, è ancora oggi un buon processore, lo possiamo sfruttare per tutta una serie di, diciamo, utilizzi uguali principali anche al gaming. Il 13400F invece ha più core e quindi potrebbe essere più indicato per qualcuno che magari cerca un computer, tra virgolette, ibrido, capace non solo di farlo giocare ma anche di farlo lavorare su due software particolari. Ma noi su questo canale abbiamo visto un altro processore che in realtà non solo ha ancora più core del 13400F, infatti ha un 14 core 20 thread, non solo ha delle frequenze ancora più elevate perché il multicore tocca i 4,5 GHz ed ha anche una grafica integrata consumando bene o male gli stessi watt del 13400F e costando all'incirca una trentina di euro di differenza. e ovviamente questo processore è il 13500F, quindi capite che il 13400F in realtà si colloca in una fascia un po' scomoda del mercato perché per 50 euro in meno a circa 160-165 euro si trova ancora il 12400F che è vero, perde nei carichi multicore ma alla fine in single core stiamo là come performance mentre con una trentina di euro in più a circa 250 euro voi trovate il 13500F che può sembrare inutile come CPU a molti di voi ma ragazzi fidatevi di me se vi dico che nei carichi poi multicore quei 4 e-core in più vi fanno fare parecchia differenza e soprattutto la frequenza di 4,5 GHz del 13500F non è da tenere così sotto gamba quando si lavora con dei software abbastanza particolari. I consumi e le temperature ovviamente sono ottime perché parliamo di una differenza di una quindicina di watt col 12400F infatti il 13400F tocca all'incirca i 100W e lo potete tranquillamente dissipare con qualsiasi dissipatore ragazzi io vabbè l'ho provato con il 420F perché sulla mia bench ho questo e ho temperature glaciali sotto i 50 gradi quindi ovviamente super overkill ma già se comprate un classico dissipatore da 120 mm con una ventola quindi a torre oppure un liquido 240 potete stare veramente tranquilli che questo processore non vi darà mai nessun problema dal punto di vista delle temperature. Passiamo invece a quella che è la cosa che a molti di voi più interessa ovvero come si comporta questo processore in gaming ok? La prima cosa è che io l'ho testato con la mia 4070 Ti innanzitutto per vedere se effettivamente un processore di questa fascia riesce comunque a tenere questa scheda video senza crearvi il cosiddetto bottleneck al quale poi ci arriveremo in un secondo momento. Testando vari giochi è ovvio che la maggior parte di questi andandoli a testare in 1080p a dettagli alti ultra riescono a sfruttare quasi al 100% la scheda video ma non nella stragrande maggioranza dei casi. Per esempio io su Shadow of Tomb Raider che non è un gioco nemmeno tanto recente in 1080p ultra sono arrivato ad avere delle percentuali di utilizzo della scheda comprese fra il 70% e il 100% il che non è proprio il top per un processore che comunque dovrebbe cercare di tirare al massimo una scheda e non sempre ci riesce. In God of War la stessa cosa in 1080p ultra riusciamo a sfruttare quasi al 100% la scheda tenendola in una percentuale di utilizzo fra il 95% e il 100% ma comunque perdiamo qualcosina rispetto a processori di fascia più elevata la cosa diventa quasi palese quando con giochi un po' più nuovi o giochi un po' più pesanti come Horizon Zero Dawn in 1080p io non riesco quasi mai ad arrivare al 100% di utilizzo la scheda resta in una percentuale fra l'80% e il 90% e anche semplicemente facendo una serie di bench con il 13400F la media di FPS è di 155 se noi andiamo di CPU un po' più potenti andiamo a guadagnare ad esempio quasi un 10% di FPS con un 12900K figuratevi magari con un 13900K quindi capite che sebbene ci stava come CPU con questa scheda grafica non siamo in una condizione ottimale per sfruttarla al 100% e anche in Cyberpunk 2077 che come sapete è un gioco pesantissimo la nostra scheda video in questo caso la 4070Ti ha difficoltà a tirare fuori tutti gli FPS nonostante sia costantemente quasi al 100% noi abbiamo un average di FPS e 1080p di circa 70% già con il 12900K abbiamo un 10% di performance in più e con il 13900K la percentuale sale ancora mentre il confronto con il 12400F è un confronto dove sostanzialmente il 13400F ne esce vincitore per così dire ma nemmeno poi di tanto perché le differenze in media con il processore omologo di passata generazione vanno circa dal 7 all'8% soprattutto in quei titoli che sfruttano principalmente il single core dove che si vede realmente poi la differenza la differenza si vede in quei giochi un po' più recenti dove si va a sfruttare in maniera superiore il carico in multicore non lo so prendiamo ad esempio Warzone o un Call of Duty Modern Warframe dove effettivamente i 4 record del 13400 si fanno sentire e su tutta una serie di giochi che hanno un comportamento simile ma fondamentalmente siamo in 1080p e ricordatevi che quando siamo in 1080p è ovvio che determinate differenze vengono fuori ma già se noi saliamo a 1440p di risoluzione la differenza con il 12400 si appiana e non di poco in definitiva una CPU come sempre buona che vale la pena di acquistare in questo momento sinceramente no se cala di prezzo e arriva sotto le 200 euro allora in quel caso investire quei 20 euro in più rispetto al 12400 vi può portare qualche beneficio e sicuramente potrebbe essere la scelta più azzeccata ma con 50 euro di differenza a mio avviso non conviene né dal punto di vista del gaming perché il 12400 ha delle performance molto simili e bisogna tenere anche in considerazione che come abbiamo visto non riesce a reggere al top anche una 4070 Ti quindi questo processore voi normalmente lo dovreste abbinare con schede video di fascia leggermente inferiore e in quel contesto le differenze con il 12400 sono ancora meno quindi a quel punto è meglio prendere il 12400 e magari reinvestire quei 50 euro in qualche altra cosa capitemi bene se il prezzo resta così questo secondo me è la situazione per essere un processore realmente appetibile sul mercato e essere più vantaggioso rispetto al 12400 a mio avviso deve scendere di prezzo cioè è un prezzo troppo alto 240, 235 siamo oltre quello che secondo me dovrebbe essere il valore di questo 13400F la questione sapete qual è che abbiamo avuto un salto troppo marcato passando dagli Intel 11 agli Intel 12 se consideriamo anche questa fascia ricordatevi l'11400 che rispetto al 12400 ragazzi sono due mondi completamente differenti è ovvio che mantenendo un'architettura simile è difficile avere un salto di prestazioni in questo caso dal 12400 al 13400F quindi complimenti ad Intel per il lavoro che in realtà ha fatto sulle CPU Alderlake in generale e si spera che con la prossima generazione o comunque con un calo di prezzi imminente o quanto prima sia un po' più appetibile come CPU sul mercato in generale ok? in ogni caso voi se dovete acquistare un computer nuovo magari avete possibilità anche di prendere il 13400F per pochi soldi di differenza potreste anche pensare di acquistarlo io vi ringrazio di essere stati qui con me come sempre lasciatemi un commento ricordatevi di iscrivervi al canale e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video ciao ragazzi a presto 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 a prest